Grazie, grazie Diana. Buongiorno a tutti, io sono Francesco Tozzi, vedo tante facce conosciute, però sono il direttore di Edizioni Laboratorio Verde, una piccola casa editrice nel settore del florovivaismo. Tra le riviste che abbiamo, Green Up è una rivista che informa il settore tradizionale della distribuzione. Piccolo momento spoiler, promozione, la rivista compie 25 anni, quindi vi invitiamo a MyPlant per un piccolo convegno il primo giorno, basta pubblicità. Grazie Stefano per la possibilità di questo momento di confronto. Quando Stefano mi ha chiamato, e Chiara mi hanno chiamato per organizzare questo incontro, questa chiacchierata sul tema degli influencer, o sul tema più allargato del digital, del social, chiamiamolo così, un po' mi sono... Io che sono quasi un boomer, che con i social non ho questa grande dimestichezza, e mi occupo semplicemente di osservarli, ho detto vado un po' sul sicuro, no? E quindi chiamo assieme a me delle persone che ho incontrato nel mio percorso professionale, perché più volte sono state intervistate sulla rivista Green Up, ma anche sulle riviste come Green Line, e quindi abbiamo detto proviamo a capire a che punto siamo, no? Quindi sono andato un po' sul sicuro, un po' perché li conosco, io e Sebastiano andavamo a Minoprio assieme, e un po' per un secondo motivo un po' pratico, insomma, portare degli esempi concreti di come queste persone, o di come i social possono essere uno strumento funzionale nell'attività commerciale, no? Nelle vostre attività di centri di giardinaggio. Uno strumento che racconta storie e che sia in grado di attrarre e fidelizzare tutti quelli che sono i vostri portatori di interesse, i fruitori o i clienti, come... Quindi, sono quattro storie totalmente diverse le loro, no? Fabio è un fisico, Simonetta disegnava abiti, tu sei lavorato in ingegneria gestoniale, dopo Minoprio sei lavorato in ingegneria gestoniale, Emanuele aveva l'azienda di famiglia, poi è andato a fare scienze agrarie, poi è tornato, comunque adesso io chiedo, io ve li presento veloci, ve li ho presentati velocissimamente, chiedo a ognuno di loro di fare una piccola presentazione e dirci da dove arriva la vostra passione per il giardinaggio. Parto da Simonetta, Ciao a tutti, ben ritrovati, qualche viso anch'io lo riconosco, mi ricordo che avevamo parlato già in Puglia qualche anno fa dell'avvento dei social, dell'importanza di avvicinare i garden attraverso i social, no, le persone attraverso i social, e il nostro settore, diciamo così, si è evoluto, effettivamente attraverso i nostri racconti tantissime persone si stanno anche appassionando al mondo del verde. Prima si diceva come possiamo definirci, ci stavo pensando, forse anche Green Creator, non lo so, potrebbe anche essere questa via di mezzo, perché comunque noi creiamo contenuti e il nostro focus è il verde. La mia passione per le piante è arrivata in tarda età, non avevo nessuna nonna, nessuna mamma, nessuno in casa che avesse passione per le piante, ma mi piace mangiare bene e avevo bisogno di avere delle insalate fresche, degli aromi freschi per la mia tavola, per la cucina, e quindi ho iniziato a fare un piccolo orto, poi siccome sono curiosa, un po' come tutte le donne, sono andata a ricercare dai contadini del luogo dove coltivavo, che era nelle tortelle a Ligure, un po' di curiosità, aneddoti, mi raccontavano come coltivare le piante, in contemporanea mi ero avvicinata all'acquarello botanico che ha necessità di copia del vero della pianta e boom, mi è scoppiata la scimmia e non mi ha più abbandonata. E ho pensato di condividere attraverso i social, allora c'erano i blog, la mia passione, molto così in maniera semplice, in maniera non certo professionale, ma in maniera amichevole, raccontando le mie esperienze alle persone come fossero degli amici. Dicevo, coltivavo una pianta perché quella pianta mi serviva per creare una ricetta piuttosto che una decorazione, piuttosto che, insomma, ritrarla. E man mano ho iniziato a coltivarle nel mio bosco giardino e poi, vabbè, è successo di tutto, si sono allargati gli orizzonti, dal blog è nato prima Facebook, poi Instagram. E Instagram è diventato quel grande contenitore che conosciamo tutti quanti, ma chi all'inizio, come me, è approdato su Instagram, erano, mi pare, il 2012, 2013, insomma, non si pensava assolutamente come sarebbe voluto. e quindi tutti i contenuti che si mettevano erano proprio con un fine propriamente solo estetico, solo di condivisione, non c'era nessun fine commerciale. e non so cosa... Si può dire che oggi tra i nostri quattro ragazzi che siete qui, tu rappresenti un po' l'influencer, il green creator pura, no? Cioè, sei tu la tua società, fondamentalmente. Sei arrivata ad avere 205.000 follower su Instagram. Mi raccomando, seguitemi a Boutgarden. A Boutgarden. Sei autrice di libri per Mondadori, sei testimonial di alcune importanti aziende del settore che sono anche qui, Bosch, SBM, Vigor, Plante. Stai seguendo alcune aziende come Cactusmania a cercare, a trovare, a costruire la sua identità social. Quindi, sei proprio l'influencer pura, possiamo dire. Sì, anche se adesso... Adesso non va tanto di moda. No, non è tanto bello. Però effettivamente mi rendo conto che magari se parlo di una pianta o di qualcos'altro, comunque ne rente il verde, le persone seguono i miei consigli. ma perché comunque gli ho raccontato una storia a monte, magari si sono affezionati anche alla persona, perché è così che funziona. Nel senso, non c'è una vera ricetta, come dicevamo prima, semplicemente la genuinità, non c'è un confezionamento, ma raccontare le proprie abitudini, quello che si utilizza, eccetera. Le persone appunto iniziano poi a seguirti. passiamo al vero outsider che c'è fra i quattro. Fabio Chessa, 27 anni, conosciuto sui social come Sfobbo, dicevamo, è un fisico che quando andavi all'elementari scambiavi talee, vi scambiavate talee di piante con i tuoi compagni di scuola. Andavi al mercato il venerdì del tuo paesino Rio Salso e andavi a comprare le piante grasse per fare la tua collezione. Poi, che cosa è successo? Allora, tutto è iniziato appunto da bambino, andavo sempre in questo mercato del paese con un euro, che mi davano solamente un euro a settimana per comprare una pianta e avevo iniziato una piccola collezione di succulente. C'erano altre due bambine nel vicinato che anche loro avevano le loro piante e ce le scambiavamo, insomma, lì è nata la prima piccola collezione. Poi ho avuto tanti interessi, mi sono sempre sentito in realtà fuori posto, perché le piante erano sempre un po' presente, ma come piccolo hobby che ho portato avanti negli anni. Poi ho fatto un liceo artistico, poi mi è passato l'interesse per l'illustrazione e mi interessava la fisica e la matematica, quindi mi sono poi laureato in fisica, ma le piante erano sempre presenti, sempre come hobby, come sfugo, finché poi con il covid quando stavo in casa chiuso in quelle quattro mura a preparare un esame di struttura della materia, guardavo la mia mostere, dicono, ma quando è che fai una foglia che ho bisogno di di vedere del movimento botanico? E niente, dal covid ho iniziato a usare di più i social, prima come cercavo cose, cercavo piante, su Instagram c'erano già molte pagine che condividevano varie specie un po' particolari e io rimasi stupito dalla varietà di certe specie esotiche che c'erano e poi mi informavo, cercavo di capire come coltivare determinate piante e io ho studiato fisico, appunto non ho una laurea in agraria, ma certe cose che leggevo non lo so, non mi convincevano. Ci sono sui social molti falsi consigli, cose vedi il latte nelle foglie, bocce di banana in quella, nebulizzare inutilmente le piante. Quindi totalmente a caso ho iniziato a boh, dire la mia, dicendo boh, secondo me, leggendo qui, provando qui e ci ho preso gusto, mi divertiva fare questo genere di cose e come si può andare avanti? Mi sono perso. lui è il cliente che tutti vorrebbero perché acquista la qualunque, compulsivamente, compulsivamente. Allora, diciamo così, che ad un certo punto hai fatto in modo che questa tua passione, tui, ricordiamolo, 52.000 follower su Instagram, 18.700 iscritti al tuo canale YouTube, 21.700 follower su TikTok. Non voglio fare la gara su chi ha più follower o chi ha più seguito. Loro quattro sono degli esempi concreti di persone che lavorano con i social che danno un contenuto. E sappiamo oramai quanto è importante dare contenuti e quanto è importante raccontare delle storie, delle storie vere. E poi, ritornando a te, tanto era sta passione che sei andato da Dario Vignudelli, di Floricoltura Vignudelli alle porte di Bologna ma perché Dario che ha 82 anni io ho visitato la loro coltivazione, la loro sera non ho mai visto così tante piante da interno e io di Garden ne visito tanti ma perché non ordini la cosa divertente è che praticamente dal 2020 con il Covid appunto molte persone forse stando segregate in casa hanno sentito un po' la mancanza del verde e quindi dagli che ti prendi il potos la mostera poi qualcuno cercava qualcosa di magari un po' più particolare e quindi si vedevano nei social certe specie in genere della famiglia delle arace famiglia che comprende i generi filodendrono, ananturio, mostera, alocasie si vedevano queste specie insolite e introvabili o se le trovavi le dovevi importare dall'indonesia al bulbetto lo pagavi 80 euro per una roba che poi magari ti poteva pure marcire però piano piano iniziano ad arrivare anche in Italia e un giorno al supermercato all'Esse Lunga c'era la alocasia regina o la black velvet a 9 euro tutti andavano all'Esse Lunga a prendere questa alocasia io ci andai con un mio amico la seconda tappa per andare dal vivaio Vignudelli a prendere altre piante a vedere cosa c'era il signor Vignudelli mi vede con una bustina con dentro una pianta va a curiosare un po' tira fuori questa pianta mi chiede delle informazioni dico è un alocasia un po' particolare ce ne sono tante le dovresti ordinare e lui mi fa va scrivi mi passa un foglio gli scrivo una quindicina di specie lui le guarda e poi mi indica un numero di telefono dicendo chiama e ordina in che senso chi è? ah è un olandese io da cliente non stavo capendo quindi niente faccio questo ordine di una decina di specie di alocasia prima gli chiedo ma le devo pagare io? no 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 te ordina le basta ok niente poi arrivano queste piante decido di fare un video che ho caricato su youtube questo video è andato piuttosto bene e per queste piante che non si trovavano praticamente da nessuna parte te le devi far spedire da altri negozi magari in altre parti d'Europa si è mossa gente da Roma Valle d'Aosta c'era un botto di gente che partiva da tutta Italia e veniva a Bologna a prendersi due piante e da lì mi ha richiamato altre cose io stavo ancora finendo dando l'ultimo esame a scrivere la tesi quindi ogni tanto andavo facevo degli ordini le venivo a scaricare a mettere a posto a bagnare a etichettare e niente dopo un po' io ho detto cioè dopo la laurea ho detto mi arrivavano richieste di lavoro di stare in ufficio a programmare ma a me la programmazione non piaceva proprio per niente quindi ho detto ma Dario ma se mi assumi vieni domani fai una prova e da lì adesso è un anno e mezzo che sto lì e abbiamo un'enorme scelta di queste piante un po' particolari io conosco anche una donna che ha un vivaio in Ecuador dove coltiva delle piante assurde quindi abbiamo importato anche delle piante da là e principalmente anturium genera anturium oltre al classico anturium andrianum ci sono altre spese con delle foglie fuori di testa e questo è un gasato di piante quindi quelle piante da cliente non le trovavo allora ho fatto un filtro qui e le faccio arrivare così ce le occorre io è un consumatore è un consumatore tipo è carino anche che secondo me lui scriva sulla parte della sua bio di instagram ti racconto come coltivo come coltivare le piante in casa poi sottolinea lavoro in una mega serra cioè farsi un senso d'appartenenza al punto vendita dove lavora perché hanno creduto c'è uno spazio per te che poi ha portato ha fruttato anche al tuo titolare andiamo a Brescia andiamo a Brescia Sebastiano tu sei titolare di le georgiche esatto con papà e mio fratello papà e tuo fratello è un vivaio un piccolo vivaio anche tu sei scappato dal vivaio hai fatto minopio ma poi sei scappato dal vivaio ha una vocazione adulta anche la mia io sono diplomato a minopio poi ho fatto ingegneria industriale mi occupavo di matematica statistica per l'economia quindi ho lavorato un po' in Francia in Università Bocconi poi appunto questa vocazione adulta di ritorno verso il mondo delle piante che penso sia plausibile nel senso che a una certa profondità il mondo delle piante diventa affascinante mostra tutta la sua poesia quando ho colto con la maturità anche mentale a 15 anni un ragazzo pensa a un'altra cosa più alle piante però vabbè no scherzi a parte mi è molto piaciuto riprendere in mano i concetti che avevamo visto a minopria approfondirli anche prima con Fabio stavamo parlando insomma di paper di pubblicazioni scientifiche perché poi facciamo un lavoro dove è anche molto importante approfondire cercare di essere sempre molto precisi anche nel dare delle informazioni questo è un po' uno dei rischi del mestiere di incappare in qualche scivolone di fare delle brutte figure se ne fanno comunque però limitare al minimo e poi c'è anche proprio questo interesse io sono entrato in azienda che è l'azienda della mia famiglia che esiste dai primi anni 80 ed è una piccola azienda di realizzazione e manutenzione al verde con 10-12 operai quindi squadre di cantieristica ho capito subito che non era la mia strada poi c'è sempre questo questo problema di confronto generazionale mio padre è una bravissima persona però spesso è difficile andare d'accordo è un tema molto diffuso in platea quindi ho cercato di trovare una mia strada una mia strada e nel 2013 abbiamo aperto il nostro shop online io mi occupo di quello in azienda quindi della parte digitale social e vendita online e contestualmente all'apertura dell'e-commerce abbiamo iniziato a lavorare in parallelo su questi due social Instagram e YouTube che sono ancora i nostri canali di comunicazione principale ed è stata un'esperienza bellissima che porto avanti ancora adesso e mi piacerebbe dedicare più tempo alla parte digitale dicevo anche prima Francesco è difficile pensare provate a farlo anche voi pensare alla vostra vita da imprenditori e poi dover pensare di aggiungere anche tutta questa parte di creazione digitale però insomma ci si organizza un pochino però è una vita abbastanza impegnativa sì perché tutti mi avete detto io li ho sentiti prima dopo le vacanze abbiamo fatto una chiacchierata al telefono ci siamo incontrati è un lavoro cioè essere sui social è un lavoro quindi questa è certo ma qui lo diamo per scontato che che venga fatto bene e secondo me c'è anche un grado di profondità che non si vede che non è che l'influencer o il creatore o si ferma alla pubblicazione del contenuto cioè ci sono centinaia di messaggi in DM da rispondere ci sono i commenti sotto i video di YouTube ci sono scadete allora io mi ritengo fortunato da quel punto di vista lì non so per quale miracolo ho una community molto pulita molto educata molto cortese però ogni tanto capita un paio di volte all'anno c'è qualche qualche no perché poi adesso viviamo in un mondo adesso questa cosa un po' passatemi il terne riadattiamo un po' walk che in America è già aperta e anche chiusa perché era 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 imbarazzante era quasi divertente di dover a tutti i costi promuovere determinati concetti di astratta sostenibilità ieri mi sono scontrato con un commento di una ragazza che avevo solo consigliato di utilizzare dei terrici di buona qualità quando si ha a che fare con le piante in vaso e dicevo possono essere miscele di torba di cocco la parola torba ha scatenato l'inferno cioè non è che volessi dire viva la torba però se devo mandare a comprare dei prodotti e poi nei garden adesso i pit free sono ancora dei prodotti che non si trovano sempre in tutte le realtà per cui volevo solo dare un'informazione ma risposto tipo noi veri ecologisti continueremo va bene questo è un argomento caldo è un argomento caldissimo quello della torba non e quindi a pestare il merdone ho capito che si possono dire le parole le hai sdoganate le hai sdoganate bene bene no e quindi fare queste cose è molto difficile bisogna stare molto attenti a porsi nei confronti di una community estremamente eterogenea che ha delle sensibilità anche molto differenti e quindi bisogna sempre cercare ecco c'è una cosa che ho imparato mai mai parlare sui social di o lì lì è la mia fine questo ho detto a Francesco vabbè questo poi ce lo raccontate adesso se no toglietegli adesso ti togliamo il microfono perché comunque ti ricordo bisogna parlare di piante 84.000 follower su Instagram 81.000 iscritti al tuo canale YouTube collaboro possiamo dirlo anche con alcune aziende del settore cifo new farm eccetera da Brescia passiamo a Napoli alle porte di Napoli e andiamo da Emanuele Emanuele Simeoli Emanuele Simeoli 27 anni 6 6 26 anni 26 anni ma perché siamo coetanei e allora anzi tu sei più giovane titolare di simegarden.com e con i tuoi genitori del punto vendita a Simegarden piccolo punto vendita alle porte di Napoli medio ecco medio piccolo medio piccolo alle porte di Napoli e prossimo prossimo annuncio brava e ora qua è è è oh mia miseria è un piacere è un piacere scrivi scrivete già ci sono i moduli e anche qui mi ha colpito anche un po' la parte di bio i miei consigli e curiosità sulle piante passa a trovarmi al garden no vive questa questa doppia questa doppia anima come se è arrivato come se è arrivato al ad avere adesso qua ad avere 194.000 follower su instagram 156.000 follower su tiktok e 6.500 iscritti al tuo canale youtube raccontaci un attimo poi allora diciamo che sono nato nelle piante quindi mio padre ha aperto l'attività tra il 2000 e 2001 prima era sempre nel settore ma si occupava di altro e sono nato e cresciuto lì quindi tutte le estate passate nel garden dopo scuola a volte si marinava la scuola e si andava al garden e quindi è una cosa che c'era già che poi è venuta fuori dopo il liceo dopo un paio d'anni dal liceo dopo che mi sono diplomato in liceo scientifico ho provato a fare agraria ma non mi piaceva assolutamente mi sono preso una sorta di anno sabbatico uno o due anni sabbatico un annetto un anno sabbatico e e quindi dopo è nata questa passione per le piante ma non ancora quella nel divulgare quello che diciamo un po' ho imparato negli anni a stare lì ad ascoltare il nome della pianta quindi tu già sei avvantaggiato quando già da piccolo cresci vivi lì tutti i giorni è arrivato un po' come una necessità è una necessità durante il covid ce l'hai raccontato a noi hai raccontato anche a Paolo su Green Line ed è una necessità che quasi tutti voi avete avuto durante il covid è stato un periodo difficilissimo dove domani non sapevi quello che succedesse non sapevi nulla quindi giorno per giorno dovevi andare avanti ed ecco di fronte a una catastrofe catastrofe come il covid sono riuscito ecco ad uscirne da vincitore nel senso le persone non potevano venire al garden o meglio dovevano venire potevano venire soltanto quelle del comune inizialmente poi le cose sono cambiate strada facendo andavamo noi a casa delle persone quindi la cosa è partita mostrando le disponibilità al garden mostrando il prodotto alcune caratteristiche dare alcune semplici informazioni sulla cura del prodotto stesso dall'altra parte chi vedeva quel video per la prima volta anche persone che assolutamente non ci conoscevano erano colpite e iniziavano a fare degli ordini quindi da lì noi da quarto che è un comune alle porte di Napoli arrivavamo a Napoli materialmente quindi inizialmente uscivamo io e mio padre a fare consegne i prodotti più venduti erano gli ortaggi perché si sono scoperti tutti abili agricoltori e sì poi dopo hanno abbandonato un po' dopo un paio d'anni e quindi partendo da lì dalla proposta di vendita poi è nata una passione nel divulgare un'informazione anche diverso da quello che può essere magari un video informativo sulle caratteristiche della pianta questo figus ha bisogno di un'esposizione luminosa innaffiolo così eccetera eccetera anche raccontare la storia stessa della pianta ci sono tante piante che hanno delle storie immense e le persone non conoscono quella storia quindi magari puoi scaturire l'interesse di una persona che magari nemmeno pensa di essere poi un appassionato di piante quindi fai scaturire una passione verso nei confronti di una persona e penso che la cosa più bella di questo cammino che ormai dura da più di tre anni è il fatto che persone non si tratta più del napoletano ecco persone da Milano vengono a trovarci se sono a Napoli persone da Brescia vengono a trovarci persone da Palermo vengono a trovarci persone addirittura dal Brasile dal Brasile erano in vacanza qui in Italia sono passate per conoscermi questo è un dato importante non tanto sull'aspetto in sé che è ottimo questo è da sottolineare perché poi funziona il fenomeno del passaparola queste persone che sono state al Garden da città diverse se lo raccontano nella loro cerchia di amicizie quindi e poi ho iniziato con la vendita online all'incirca tre anni fa un progetto però molto amatoriale quindi inizialmente nulla di troppo strutturato dopo circa un anno e mezzo di vendita online decisi di stoppare e creare qualcosa di più serio quindi anche perché inizialmente la community non era così basta come oggi che conta quasi credo 400.000 persone crescendo soprattutto a cavallo tra il 2021 fine 2021 e inizio 2022 tutto il 2022 è stato un anno di crescita esponenziale decisi di ecco iniziare un progetto nuovo più strutturato e all'avanguardia in modo tale da convertire tutte quelle persone o una grande parte di esse che seguono i canali social Sime Garden su TikTok su Instagram su Facebook su Youtube in modo tale da convertire tutto quel grosso enorme lavoro ecco che dicevamo prima perché è un lavoro enorme convertirlo anche in altro quindi non fermarci soltanto alle persone della campagna che vengono vedono il video vedono interessati dalla pianta da quello che tu hai raccontato vengono poi a spendere e quindi converti una vendita ma anche arrivare a posti dove tu non immagini di arrivare ecco penso che una delle mie più grandi soddisfazioni è quando vedo che i miei prodotti attraverso la pubblicità quel video che tu hai fatto vengono poi acquistati da tutta Italia cioè penso che questa sia una delle cose più belle ed è forse una delle cioè delle marce che ti fanno fare sempre di più ecco è una cosa questo è il consiglio che vi do a voi cioè non fermatevi soltanto ecco alla vostra città alla regione ma anche andare oltre questa è una cosa bellissima mi fermo ancora un attimo su di te Emanuele poi ripasso a Simonetta l'altro giorno mi dicevi anche alcuni dati trend di ordini mi dicevi che l'anno scorso novembre è stato meglio di maggio ancora un po' sì novembre per quanto riguarda l'online è stato migliore di maggio e che a gennaio gennaio 2024 ad oggi abbiamo già raddoppiato gennaio 2023 e se nel 2023 hai fatto un ordine dall'Olanda sei al terzo ordine quest'anno quindi questo insomma per dargli un valore concreto poi anche cioè non vediamo soltanto questo online ma ecco trascina questa azione che io faccio sui social mettendoci la faccia trascina tutta l'azienda cioè io questo ragionamento facevo questo ragionamento tra ottobre e novembre se io non facessi questa azione cosa staremmo facendo oggi avremmo mai sorpassato il covid se non avessi fatto tutto questo io penso di no per me oggi è la colonna portante della mia azienda se io ho un periodo facciamo un esempio sono in vacanza e non voglio sapere nulla dei social perché poi quando vado in vacanza già tutti i giorni quando vado in vacanza anche una settimana devo stare tranquillo se io vado via una settimana durante un periodo dove si lavora le vendite noto che calano calano gli ingressi calano le vendite online perché è strettamente collegato quindi se io parlo di una cosa si vende quella cosa sembra paradossale ma è così certo ed è una cosa diciamo che è una medaglia una faccia è bella un'altra faccia perché tu non puoi mai staccare devi essere sempre lì sul pezzo e soprattutto aggiornarti proporre cose nuove e non stancare perché poi si può anche stancare quindi devi essere sempre aperto all'innovazione aperto io lo vedo quasi c'è un lavoro ma c'è anche una vena artistica all'interno quindi devi essere bravo a proporre e a creare quel qualcosa in più per far scaturire sempre più interesse nella persona che ti segue perché oggi è facile perdere l'interesse sui social noi diciamo che sta un po' cambiando la concentrazione di noi stessi se tu scrolli sui reel massimo duri due secondi su un video a meno che ecco non arriva Sebastiano che è bravissimo mi cattura e mi vedo tutto il video quindi anche per noi che siamo content creator è difficile perché tu devi concentrare tutto un discorso magari di un minuto e mezzo in 30 secondi in 2 secondi non fa per me è un lavoro difficile rimanendo sulla vena artistica tu Simonetta arrivi dai tuoi studi artistici però prima io nelle domande che vi ho mandato prima di Natale da pseudo giornalista che vuole sapere diciamo ma qual è il vostro avete un piano editoriale avete delle regole da provare a consigliare a una platea di imprenditori anche qui fuori nel divanetto ci siamo detti ma poi non è che esiste un segreto no? quindi come ti organizzi tu lei è molto organizzata però allora ti stupirò perché io faccio come il ciabattino che va con le scarpe da aggiustare che predica bene ma razzola mica tanto bene perché con chi magari seguo dicono bisogna avere un piano editoriale facciamo questo facciamo quell'altro eccetera eccetera per me è sempre una rincorsa nel senso che comunque lavorando con alcuni brand vengono prima i clienti quindi già abbiamo delle date specifiche da rispettare e poi ci sono tutti gli altri contenuti da fare che sono quelli poi anche un po' diciamo di intrattenimento che raccontava dei primi due secondi di attenzione ma dietro a un reel che può essere che è un reel perché principalmente stiamo parlando di Instagram che è quello che converte di più a livello economico normalmente sono intorno ai 25 30 secondi adesso pare che Instagram accetti anche tempi un po' più lunghi seguendo le indicazioni di TikTok ma per fare quel video noi ci lavoriamo magari tre ore quattro ore e anche di più l'idea creativa i tagli le prove e tanto altro io poi che sono anche un po' fanatica tre o quattro ore per un reel questo è anche un dato per registrare poi c'è la fase di montagna esatto ma io che sono anche un po' fanatica dell'estetica magari rifaccio una scena perché magari c'era un pezzettino di terra lì che non mi piaceva tu sei la fanatica dell'estetica sono molto noiosa con me stessa e quindi cerco di dare un bel contenuto e mi sono persa all'inizio se c'è una regola un piano editoriale si deve esserci comunque non è che uno si alza un giorno c'hai già magari delle idee ti vai a diciamo che ci sono le ispirazioni soprattutto che chi ha un animo creativo e qua mi sembra che più o meno siamo tutti quanti in sintonia su questo si colgono nell'aria le cose magari si fanno degli appunti io ho delle note del cellulare con tutte le idee che mi vengono e man mano si vanno a ripescare personalmente per quanto riguarda appunto questa delle idee non vado a ricercarle non guardo o Pinterest o cose così perché non voglio essere influenzata perché cerco di essere originale ma non per essere originale per dire che bello sono originale ma perché mi stuferei io stessa a fare cose che fanno altri seguo ovviamente su Instagram tante cose perché proprio mi piace come social mi piace tantissimo vedo ad esempio nel food tante ricette una uguale all'altra ma che divertimento c'è insomma tante cose che sono così e si ci vuole un pochino di organizzazione assolutamente passando a te Fabio ci vuoi raccontare chi sono se riesci a dare un identikit dei tuoi dei tuoi follower mi dicevi che insomma che vanno dai 25 almeno su Instagram vanno dai 25 ai 30 una fascia 25-35 anni che è una una fascia importante anche per per il punto vendita per il punto vendita garden center chi sono cosa cercano cosa ti chiedono allora sempre riparlo appunto di quello che è successo con il covid e questa quella brutta situazione dove tutti stavano dentro casa e cercavano del verde ha colpito molto anche i giovani e ha colpito tutti quanti facendo anche delle ricerche su google trends mettendo la parola ad esempio piante e fiori si vede che c'è sempre un picco ogni verso ogni marzo ma nell'anno del 2020 il picco era esageratamente alto scusate e quindi è stata una cosa generale facendo video e appunto mettendoci la faccia ho appunto 27 anni ho iniziato che ne avevo cioè era due anni fa circa cercando di parlare anche in maniera spontanea ovviamente è difficile essere come con una persona davanti quando stai guardando un cellulare però cerco di parlare come sto forse facendo adesso la gente cerca la spontaneità cercando di essere spontanea quando vedo una pianta la descrivo tipo buona cioè molto in maniera spontanea questo magari ha permesso anche a molti giovani di vedere che la pianta non è per forza qualcosa da diciamo da vecchi perché c'è un po' nell'immaginario collettivo la pianta d'appartamento l'anturium andreanu il ficus lo spatifillum ci sta che possa avere quella nell'immaginario collettivo quella valenza lì però vedendo che specie assurde ci sono di piante che possono vivere anche dentro casa tutta quella bellezza che a me fa star bene ho necessità diciamo di condividere cioè se a me fa star bene se te la faccio vedere se ti spiego come io la coltivo che magari funziona anche a casa tua e anche tu riesci a coltivare quella quella pianta lì dai sono contento e nelle statistiche dei social sì c'è un praticamente nelle in tutti i social c'è modo di vedere per ogni profilo chi è il diciamo il tuo utente cioè delle statistiche su instagram c'è un adesso non mi ricordo le percentuali però c'è una sorta di picco intorno ai 25-35 anni su youtube oscilla perché anche lì prima c'era 25-35 poi è andato mezzo virale un video sulle piante grasse d'inverno che è interessato un'enorme popolazione di ultra 65 anni quindi mi ha spostato tutte le statistiche però vabbè quindi sì ci sono molti giovani e in vivaio nei tre banconi che abbiamo di piante diciamo rare vengono spesso queste persone giovani l'altra volta sono venute avranno avuto sui 20-22 anni erano un ragazzo una ragazza forse stavano assieme hanno comprato due piante e poi sono ritornati a Roma cioè pazzi ma questa cosa succede molto spesso e una cosa molto bella che ho notato è che quando era ancora 2020 certe piante erano davvero rare c'erano esemplari di alcune piante che avevano dei prezzi veramente esagerati c'era un filodendron originario della regione di Espirito Santo in Brasile filodendron che poi è stato chiamato Filodendron Spiritus Sancti che ha toccato cifre di 15.000 euro per pianta ovviamente questo è uno dei casi più esagerati era rarissimo era stato trovato due o tre volte in natura era già stato un po' fatto a pezzi qualcuno orti botanici eccetera hanno cercato insomma di limitare il bracconaggio però delle piante giravano e la moste era deliciosa variegata anche quella ha avuto dei prezzi assurdi c'erano talee in vendita a 100 150 euro quindi hanno avuto dei prezzi esagerati perché erano ce n'erano pochi molte persone lo volevano quindi per una semplice legge di domande offerte i prezzi salivano poi essendo delle piante che si possono propagare con relativamente poco tempo il prezzo cala però quando costavano tanto una cosa bella è che le persone prima di prendere quella pianta si informavano la pianta non era più come un elemento d'arredo usa e getta se muore va bene riprendo un altro tanto costa 10 euro no lì vedevo anche quando arrivavano in vivaio se ne parlava su come coltivarla il concetto dell'affezione non è più solo per una fascia di giovani si va oltre il complemento che la pianta dicevamo in tanti convegni è diventato non è più una semplice planta ma un complemento d'arredo invece adesso è anche un oggetto d'affezione un oggetto un essere vivente poi alla fine andiamo un po' di corsa adesso perché dobbiamo chiudere Sebastiano quando chiacchieravamo al telefono io ti ho detto ma un consiglio che noi possiamo dare ai garden center tu mi sottolineavi l'importanza del dato il concetto di community che il garden deve utilizzare anche il social come strumento di informazione di quello che il consumatore cerca e quindi orientarsi poi anche nella sua offerta questo ne avevamo parlato allora sicuramente faccio un attimino un passo indietro ma sono comunque breve non vorrei che adesso tutti siano molto frustrati da quello che hanno sentito qua perché è un lavoro molto impegnativo e oddio come farò a fare i social allora partiamo dal presupposto che i social hanno nature molto diverse e possono essere utilizzati in maniera molto diversa io penso che un imprenditore qualunque sia il lavoro che fa ma ha come obiettivo ultimo creare del profitto nell'impresa e i social devono essere una leva per creare profitto quindi non è tanto importante oddio solo mille follower oddio mille follower cinquemila follower non è tanto quello soprattutto perché bisogna capire per cosa stiamo usando i social nel senso ci sono sicuramente delle grandissime realtà presenti qui in sala che hanno un'espansione territoriale ampia sicuramente nazionale dove c'è un interesse in effetti ad avere una platea di pubblico che possa essere il più espansa possibile dovesse essere il mio garden center a Calvisano e non avessi la vendita online sì forse per autostima mi piacerebbe avere una valanga di follower però sarebbe una mossa un po' fine a se stessa e data la fatica che richiede crescere in termini di seguito non la troverei una strategia premiante quello che dicevo con Francesco è che in realtà spesso i social non vengono letti nell'ottica giusta i social network non sono solo degli strumenti che proiettano delle cose da parte nostra verso l'esterno sono anche io sono uno statistico quindi amo questa cosa sono un immenso pool di dati la profilazione degli utenti che hanno i database che stanno dietro i social network non li ha nessuno Facebook penso che io sono stato uno che ha fatto Facebook all'inizio gli ho detto dove abitavano il telefono che religione sono facebook sa tutto di noi e quindi cosa succede succede che quando noi dobbiamo fare la promozione della stella di Natale al punto vendita di Calvisano Brescia con un investimento molto limitato oddio adesso qua non voglio togliere il pane di bocca a chi lavora nell'editoria per carità no sta scherzando sono tutte cose che si sovrappongono però cercate di capire anche l'opportunità di utilizzare i social non per creare una fan base ma per utilizzare il pool di persone profilate che stanno all'interno per lanciare della pubblicità dell'advertisement in maniera molto molto chirurgica voglio che questa promozione la vedano le donne che hanno tra i 18 e i 24 anni che abitano in provincia di Varese e vi garantisco sono dei cecchini con gli algoritmi ve le beccano tutte con 50 euro al giorno per una settimana raggiungete tutte le donne in questa fascia d'età della provincia di Varese si ma gli annunci possono essere di qualsiasi tipo io qua 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 Emanuele adesso andiamo su Emanuele per chiudere per chiudere andiamo su che napoletano più un signore no ecco scherzi a parte però ecco non voglio che i social vengono visti solo come un impegno ma devono essere visti anche con un'opportunità per promuoversi questo è veramente importantissimo non viene mai secondo me percepito bene ok l'ultima domanda a te Emanuele e ti chiedo di essere voglio aggiungere solo una cosa a quello che ti chiedo di essere conciso aggiungendo te la faccio così poi addirittura noi possiamo arrivare anche alle passioni che si hanno se io sono un appassionato di piante da interno sulla mia piattaforma sul mio sito posso andare a settare se a te piacciono le orchidee se a te piacciono i ficus se a te piacciono i filodendro ovviamente con delle piattaforme molto avanzate tramite anche l'intelligenza artificiale quindi proporti poi quello che a te piace è avere sempre più risultati essere sempre più cioè quando tu proponi un'offerta vai sempre più mirato è un cerchio che si restringe sempre di più e ottieni sempre più risultati qui stiamo parlando del web ti chiedo sempre un altro giorno mi dicevi che c'è anche questa Instagram TikTok cioè sono due strumenti da cui si può attingere da tutti e due gli strumenti per creare dei contenuti che possono essere utili per tutte e due questi questi social c'è una sorta di sovrapposizione sintetico inizialmente io spendevo troppo di pubblicità con pochi risultati a un certo punto mi sono scocciato di spendere troppi soldi per le pubblicità e quindi ho deciso di minima spesa massima resa gioca con l'algoritmo inizia a capire quello che Instagram TikTok vuole in che modo lo vuole e fatti trascinare da un'onda ovviamente un video può andar bene un video non può andar bene se sei bravo la maggior parte dei video vanno bene e tu con la minima spesa o addirittura senza spese solo il tuo tempo e il tuo lavoro riesci ad ottenere tanti risultati questa è la mia strategia su diciamo il piccolo segreto se vogliamo dire così quindi io di pubblicità spendo davvero pochissimo ovviamente comporta questo in un impegno costante non puoi fare assenze devi essere costante devi pubblicare quasi tutti i giorni per entrare sempre a casa delle persone la presenza di Diana è come un momento di stop no è la 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 la